Il liceo scientifico pone di più l'accento sulle materie dell'area matematico, fisico, scientifico, però completa la formazione anche con l'italiano, la storia, la filosofia, l'inglese, la storia dell'arte. Quindi anche da questo punto di vista il liceo scientifico presenta un menu completo. Ecco, diciamo che il liceo scientifico è destinato soprattutto a quei ragazzi che hanno il pallino della matematica, quei ragazzi che hanno la prospettiva poi di proseguire gli studi in una facoltà di tipo scientifico come l'ingegneria o come l'economia. Mentre il liceo classico mantiene aperte tutte le strade, il liceo scientifico è già un po' più indirizzante.